Voglio ringraziare, ringraziare veramente il Presidente e la sua sensibilità nei confronti delle aziende ma soprattutto nei confronti delle persone marchigiane perché comunque anche nelle sue parole cosa è scritto proprio nell'attestato dimostra quanto importante sia il rapporto del marchigiano stesso di noi persone che facciamo parte di questa comunità così importante e così bella e poi per quanto riguarda invece, torniamo ai nostri progetti, sono tantissimi, sono ambiziosi sono comunque rivolti a un futuro, in un certo senso siamo anche fortunati perché diciamo di avere già le spalle coperte da un percorso precedente, il futuro di sostenibilità, il futuro di rispetto dell'ambiente l'azienda sta andando sui consumi zero, si è certificata senza glutine da tempo, si è certificata con altri attestati proprio perché comunque la filiera stessa e le modalità stesse di produzione vogliamo comunque scriverle perché crediamo che anche questo sia un grande patrimonio da lasciare e da evolvere perché nessuno ha mai raggiunto un obiettivo da solo e perché comunque nessun obiettivo è stato mai veramente raggiunto ma è sempre un lungo percorso